Pizzeria vessata da continue richieste di denaro al Reggio Calabria, 5 persone in manette, le forze dell'ordine hanno scoperto anche un arsenale. Sono stati due anni terribili per la famiglia Regina che gestisce una pizzeria, scanditi da richieste di denaro e atti intimidatori. Prima 1.500 euro in unica soluzione, come contributo per il sostentamento dei ritenuti. Poi 500 euro a settimana per un periodo e 300 in una seconda fase che si è protratta fino all'aprile scorso. Richieste estorsive e controllo totale dell'attività e della contabilità dell'esercizio commerciale attraverso l'inserimento nel personale, con le mansioni di cassiera, della moglie o della compagna e i due elementi della banda di presunti estorsori. Non solo, dalla cassa si poteva prelevare denaro e agli amici era concesso di tutto, anche di consumare gratis. E se la famiglia provava a lamentarsi o a licenziare la cassiera di turno, ecco le minacce, stasera non coricatevi o vi ammazzo tutti e tre, le aggressioni e le percosse. Negli ultimi giorni, a fine aprile, l'escalation di violenza, l'incendio e la porta di emergenza del locale con i clienti all'interno e gli undici colpi di pistola che hanno crivellato l'auto di famiglia parcheggiata davanti a casa. Sulla base delle dichiarazioni delle vittime, delle intercettazioni e delle immagini della videosorveglianza, polizie e carabinieri hanno fermato quattro persone, Gianfranco Musarella e i tre fratelli Marra, Antonino, Giovanni e Alessandro, per estorsione, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali e danneggiamento mediante incendio, aggravati dalle modalità mafiose o per aver agevolato l'andrangheta. Durante le indagini è stato rinvenuto un arsenale nel quartiere di San Giovannello e è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione illegale di armi comuni e da guerra e relative munizioni. Una donna, Pamela Domenica Barillà, compagna di Musarella. Oltre a Kalashnikov, alla pistola mitragliatrice Uzi, a due pistole semiatomatiche Beretta e le altre armi, sono state trovate varie divise di una ditta vigilanza, passamontagna e guanti. Gli inquirenti, che attendono ora l'esito degli esami balistici, non escludono che il gruppo, oltre che alle estorsioni, fosse dedito anche ad altre azioni delittuose, come le rapine.